Passa all'allenamento fisico, quale miglior personal trainer di Francesco? Francesca vuole un bravo ragazzo? Francesca vuole un bravo ragazzo? Allora Ruben si trasforma in un pazzo? Allora Ruben si trasforma in un pazzo? Ci vuole un fisico bestiale Per resistere agli urti della vita A quel che leggi sul giornale Un paio di bibibidi buoni fanno più di cento mazzi di rose Ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai Anche per bere e per fumare, sai, mare, sai Ci vuole un fisico bestiale Guarda un attimo, ho gli svarioni Mi caldo del succo? Sì Guardami un attimo Mi sento stanchissimo Per 30 secondi di allenamento No, non lo so Aspetta, ti faccio un po' l'azio Tieni, vedi questo, ci sono i minerali immediati Ho avuto un calo di... La corda Basta Tirami su questo, l'altro po' le gambe Sta allenato facile Sbiancato per me per 10 secondi di allenamento No, sai cos'è la corda? Eh, vabbè, un po', ti ha fatto 3 minuti e 3 sarti Che la corda L'allenamento di non più a settimana lo farei però, fossi in te Che la corda Che la corda Che Grazie a tutti.